Buonasera, ci troviamo all'Osteria Terracena. Questo locale è nato da un'idea di passione per la cucina salernitana tipica. Quest'idea è nata tra me e mia moglie. Cerchiamo di coltivare questa passione qui in questo locale. Se ci vedete a trovare potete degustare dei piatti molto particolari con un poco di innovazione. Il nostro piatto forte, la specialità della casa, è uno spaghettone con pancetta, pepe, basilico, pomodoro e parmigiano. Molto gustoso. Inoltre il servizio è a vostra disposizione, quindi siamo lieti di ospitarvi. Ci troviamo in un contesto storico, questo è il Castel Terracena. Da qui nasce il nome dell'Osteria, infatti si chiama Osteria Terracena. Siamo al centro di Salerno, a Piazza Francesco Cerenza, numero 9. Per chi vuole c'è la possibilità di transitare per la ZTL e poi richiedere il permesso al Central Parking qui vicino a noi. Per quanto riguarda il resto, che vogliamo dire? Che siamo molto lieti da sera. Speriamo che sia una bella serata e che tutto vada bene.